Ciao, sono Giorgia. Ti stai chiedendo come fare per accedere all'università? Seguimi, ti spiego come fare. L'accesso all'università può essere effettuato per assistere alle lezioni o per usufruire dei servizi, con la prenotazione della tua presenza. Scarica e apri l'app iCat. Vai al calendario settimanale per vedere le giornate in cui puoi recarti in università. Queste sono cerchiate con il verde. Se vuoi una visione più in generale, clicca su Gestisci presenze per vedere l'intero mese. Vediamo un esempio. Il giorno 22 è cerchiato con il verde, quindi puoi venire in università. Per confermare la tua presenza, seleziona il giorno 22 e risponde alla domanda Ti recherai in Ateneo in questa giornata? Sì, il pallino diventa verde. Un altro esempio. Il giorno 30 è cerchiato con il verde, ma non vuoi venire in università. Seleziona il giorno 30, rispondi di nuovo la domanda, rispondendo questa volta No, il pallino diventa rosso. Il giorno 28 è rosso, perché avevi rinunciato. Ma ora vuoi venire? Seleziona il giorno 28 e rispondi alla domanda Sì, il pallino diventa verde. Il giorno 20 è verde, ma non vuoi più venire? Seleziona il giorno 20 e rispondi alla domanda Conferma, il pallino diventa rosso. A volte i giorni sono cerchiati di arancione. Questi sono giorni diversi da quelli assegnati. Sono posti rimessi in gioco, rinunciati da altri studenti che tu potrai selezionare per venire in università. Vediamo un esempio. Il giorno 21 è cerchiato di arancione. Puoi scegliere se venire in università. Seleziona il giorno 21, rispondi alla domanda Ti recherai in Ateneo in questa giornata? Conferma, il pallino diventa verde. Hai un impegno imprevisto. Il giorno 21 non puoi venire in università. Seleziona il giorno 21. Stai rinunciando alla presenza in Ateneo nella data selezionata. Seleziona Conferma. Il pallino diventa rosso. Ricordati, la conferma della tua presenza o assenza deve essere effettuata tramite l'app iCAT entro 48 ore prima della data scelta. Benvenuti in Università Cattolica del Sacro Cuore.